Questo programma è offerto da Tecnocampus Martedì 26 marzo, buongiorno da Teleprima Benvenuti anche oggi a questa quotidiana rassegna stampa Come sempre offerta da Tecnocampus Anche questa mattina i fatti in primo piano sono tantissimi Si parlerà di politica, si parla di Battista, ancora di Jusso Sori Ma soprattutto del dubbio se dare la cittadinanza o meno al ragazzino Che è stato considerato l'eroe dell'autobus sequestrato la scorsa settimana Insomma tante notizie in primo piano che lasciano comunque un segno E che comunque ci faranno discutere tanto Ma cominciamo a vedere i fatti in primo piano con il fatto quotidiano E cominciamo a sfogliare la sua prima pagina Partiamo direttamente dall'alto Dove leggiamo che c'è un ultimatum di Lega e Movimento 5 Stelle a Tria Deve firmare il decreto per dare un miliardo e mezzo ai truffati delle banche Ma ormai è più facile piegare Bruxelles che il tesoro E intanto veniamo nella parte alta della pagina Grandi opere Ponte Messina chiesti allo Stato 700 milioni In pregiro vuole si risarcimento per il mega blef Certi progetti faraonici continuano a fare danni anche senza essersi mai tradotti in realtà Nuovo ricorso del consorzio Eurolink contro lo stop di Monti al progetto Deve pronunciarsi però ancora la Corte Costituzionale E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano Battisti confessa i suoi quattro delitti Sentenze ok L'ergastolano delude i suoi fan e accetta le condanne Questa è quella che viene definita una resa Ma sicuramente non è una resa Anche perché molti stanno già attestando che sicuramente c'è qualcosa dietro E infatti 34 anni dopo la prima sentenza e a poco più di due mesi dall'estradizione dal Brasile L'ex PAC infatti ammette i crimini e chiede scusa alle famiglie delle vittime Che però accusano vuole solo uno sconto di pena Questo è quello che viene lanciato come monito contro questo soggetto Che ha commesso vari reati di cui però si è sempre detto innocente E ancora cominciamo a vedere gli altri fatti in prima pagina Lucania Italia sud a destra ma resta tripolare 5 Stelle Di Maio richiama DIP Dai dati niente ritorno al bipolarismo Salvini vuole il Piemonte Presidente è l'ex generale della Guardia di Finanza Vito Bardi Il PD si ferma sotto l'8% meglio dei DEM Anche la lista dell'ex governatore indagato Pittella Che torna in consiglio ed è a rischio severino E intanto vediamo l'ex governatore Pittella arrestato e rieletto I voti al PD dice sono miei E ancora vediamo una notizia di cronaca impunità Sangue infetto tutti assolti morti a migliaia però senza colpevoli E da questa vicenda ci facciamo appunto un interrogativo E questo è chi pagherà per queste morti? Assolutamente nessuno ma chi è il colpevole? E ovviamente ancora un'altra risposta che non avremo E ancora lo stupratore di Torino era stato e arrestato ma mai espulso Ancora una volta una vicenda che fa tanta polemica Che comunque lascia dei segni brutti su una persona che comunque ha subito tanta violenza E ancora vediamo nella parte bassa della pagina Monnezza, Roma in fiamme, l'altro impianto per i rifiuti era senza telecamere E Monnezza 2 anche Parigi invasa dal Pattume, dalla Ville Lumière a Ville Pubella Insomma sembra quasi che l'immondizia non sia un affare tutto italiano E soprattutto non sia una vicenda che riguarda solo il nostro meridione d'Italia Ma che purtroppo e dico purtroppo riguarda l'Italia intera ma anche altre nazioni E quanto pare non è tutto così scontato come sempre ci vogliono far credere Ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano, ci spostiamo sul quotidiano libero E vediamo nella parte alta della pagina l'articolo di apertura Lo vediamo di un bel giallo, Movimento 5 Stelle festeggia la settima sconfitta Di Maio si sbronza ovviamente con l'amaro Lucano In Basilicata i grillini sono scesi dal 44% al 20% Ha vinto ancora il centro-destra, attrazione leghista Eppure Gigino esulta, dice siamo forti Eccolo qua E ancora il nuovo PD già agonizza, superato però da Forza Italia E vediamo ancora perché Salvini non si ferma più Perché ovviamente è incoronato perfino dal sud Questo è quello che racconta oggi Libero Questi sono i fatti in primo piano Ma soprattutto questa è una realtà sempre più eloquente E nella parte bassa della pagina La cella fa bene a Battisti, ora ammette gli omicidi Cesare chiede scusa ma troppo tardi E intanto il Tribunale è un debole per Fabrizio Nostalgia della prigione E infatti Corona ritorna ancora una volta in cella E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano E passiamo al tempo Eccoci qua, vediamo nella parte alta della pagina Si parte dalla cronaca Nell'ospizio farmaci scaduti E pensate un po' a un morto E' quanto accaduto a Grotta Ferrata Sequestrata una struttura per anziani abusiva Denunciata la titolare E ancora nella parte alta della pagina A Roma la guerra degli assessori L'ex titolare all'urbanistica Berdini attacca il successore Montuori Che lo querela E ecco l'ennesima puntata Del tormentone politico-giudiziario Sullo stadio giallo-rosso E ancora vediamo quali sono le altre notizie Che derivano proprio da questa prima pagina Lega e Movimento 5 Stelle Non si sopportano più Di Maio chiede chiarimenti a Salvini E intanto cittadinanza al piccolo rami L'alta del governo Il Viminale dice Mancano i requisiti Ed ancora l'ex terrorista che vuota il sacco Ora Battisti confessa E dice I quattro omicidi sono miei E nella parte bassa della pagina Parliamo anche di televisione Giletti vuol tornare da Mammarà Il conduttore vede i vertici di Via Remazzini Ma siamo verso il clamoroso bis E anche questo una domanda Che vedremo se riusciremo ad avere una risposta Ed ancora ci spostiamo su Su il giornale Vediamo nella parte alta Battisti La resa del furbo Ho ucciso e fregato la sinistra Vergognose scuse Dopo 40 anni Il terrorista confessa i quattro omicidi E smaschera l'ipocrisia di chi lo ha difeso Ed ancora vittoria in Basilicata Centrodestra Boom Ma Salvini gioca col governo giallo-verde E infatti neanche il 7-0 fa vacillare la maggioranza La vittoria del centrodestra in Basilicata Aveva spinto Antonio Tagliani a chiedere di nuovo a Salvini Di porre fine all'alleanza giallo-verde Ma il leader della Lega tira dritto Il mio governo è meglio Il governo è meglio a due Forse perché non ha i numeri per governare da solo Questo è un interrogativo che comunque ha una valenza piuttosto certa E ancora vediamo quali sono le altre notizie in primo piano Vediamo eccoci qua il dilemma moderato La via stretta per una destra assolutamente non sovranista Il dilemma che oggi viene raccontato Ed è il dubbio che c'è spazio in Italia per una destra cosiddetta non sovranista La risposta non è così scontata Se ti fermi solo all'umore di fondo dici no Salvini in questo momento è troppo forte Salvini comanda, piace, ruba consensi Strappa applausi in tv, brilla sui social Dette i tempi e i temi della politica Non solo, si è inventato uno schema di alleanze inedito Dove ha tutto da guadagnare La doppia maggioranza sta al governo con Di Maio E ne rendica la durata e anche la vittoria in Basilicata Anche se dice fregniamo perché comunque il governo non è in difficoltà E ancora vediamo il rischio Lega e Forza Italia Se il Piemonte pesa più di Bruxelles E ancora vediamo nella parte bassa della pagina Eccoci qua, vediamo le altre notizie Ci spostiamo sullo sport Schumi Junior è già velocissimo Pronto l'esordio sulla rossa Il secondo genito del campione del mondo A quanto pare fa faville E infatti 4.545 giorni dopo Schumacher torna sulla Ferrari il 2 aprile Il secondo genito è lui che si cala dall'abitacolo della rossa E per un attimo il mondo incomincia a ricordare e a vivere ed esultare E ancora vediamo le altre notizie in primo piano Un secolo fa l'impresa Stiamo parlando di fiume città-stato Così da annunzio ricreò lo spirito del rinascimento E ancora continuiamo a spiegare le prime pagine dei quotidiani nazionali Andiamo a vedere adesso la Repubblica che cosa ci racconta questa mattina E partiamo proprio dalla parte politica Nella parte alta della pagina Governo in debito 6 miliardi in più al mese Aumento record nell'ultimo anno E dopo la Basilicata Esecutivo in bilico I timori del colle ora di maio Rischia la leadership E Salvini basta No dal Movimento 5 Stelle E ancora vediamo che C'è un punto che viene fatto proprio da questa pagina Della Repubblica Quei voti che il PD non riesce proprio a recuperare E intanto l'incertezza che paralizza ancora una volta Le imprese Intanto nella parte più bassa Vediamo la cittadinanza a Rabi Il Viminale frena Verifiche sul padre A quanto pare per il momento Non se ne parla più E ancora nella parte bassa della pagina Lombardi Raggi va controllata Serve un direttorio E di fidere nella parte bassa della pagina Anche da questa prima pagina Della Repubblica Battisti confessa Pensate un po' però La questione è proprio questa Dopo 40 anni Questa confessione Ha senso oppure no E infatti in carcere ammette i quattro omicidi E i familiari delle vittime Con certa Perché probabilmente richiederà uno sconto di pena E ancora vediamo la guerra di Gaza Che fa paura al mondo Ancora nella notte scontri Vediamo una immagine che racconta di una guerra senza fine Ancora ci spostiamo sulle altre prime pagine dei quotidiani nazionali Vediamo il messaggero E questa mattina nella parte alta della pagina Vediamo la serie tv cult Gomorra Cambiarotta Affari, finanze E anche donne di potere Ed ancora Formula 1 Ferrari Sarà Schumi Junior A provare la rossa in Bahrain E intanto vediamo l'apertura Eccoci qua Di Maio in crisi Accusa Salvini In Basilicata Vince il centrodestra Il leader leghista Rassicura l'alleato Amanti altri 4 anni Ma il vice premier Movimento 5 Stelle Basta Graffi Ora un chiarimento I flussi La Lega Ruba i voti Ai grillini E ancora vediamo Nella parte centrale della pagina L'ex terrorista ammette 4 delitti Ma non rivela i complici Battisti In mossa per evitare l'ergastolo La confessione interessata potrebbe uscire tra 12 anni E insomma Già per lui sarebbe sicuramente meglio Ancora vediamo paradossi giallo-verde L'alleanza innaturale E il reddito Che ancora una volta non paga E intanto Roma Ancora al centro delle polemiche Nel caos rifiuti L'accusa dei PM Roghi Regia dietro i sabotaggi L'ipotesi del dolo Per salario Rocca Cencia Lega Eppi di riaprire il fronte Contro la Raggi E intanto vediamo Nella parte bassa della pagina Dopo oltre 23 anni Scagionato L'ex manager della sanità Sangue infetto Assoluzione per Poggiolini E intanto Nella parte bassa della pagina L'ex fotografo Che era in libertà Vigilata E torna di nuovo in carcere Stiamo parlando di Corona Rivelare a Dutteri Non è a quanto pare Dice lui Una buona condotta E adesso vi lascio A qualche attimo di pubblicità Ma ritorniamo subito dopo E continuiamo ancora una volta Con la rassegna stampa Soprattutto nelle prime pagine Dei quotidiani nazionali Rivelare a Dutteri Grazie a tutti. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ancora una volta in studio, bentornati. Continuiamo a vedere le prime pagine delle testate nazionali. Continuiamo a sfogliare in questa rassegna stampa le notizie principali ed andare ad esaminare quelli che sono i fatti. E continuiamo direttamente con il mattino e vediamo nella parte alta della pagina, nelle notizie brevi che vengono annunciate proprio da questa pagina. La quarta stagione, infatti, torna a Gomorra tra rifiuti e finanze e arriva un film su Ciro l'Immortale. E ancora vediamo l'intervista al commissario delle università di Rochaud allo Stadio San Paolo proprio in stile Olimpiadi. E la nuova Champions dell'Aurentis, anche il Napoli, deve stare nella Superlega. E ancora continuiamo a vedere le notizie che in questa mattina trionfano proprio da questa pagina. E si parte dalla parte politica, Movimento 5 Stelle e Lega. Alta tensione dopo il voto, il caso Rami, Di Maio, il nuovo flop alle regionali. Serve un chiarimento con l'Aliato e Salvini? No alla cittadinanza al 13enne. Insomma, una sorta di retromarcia proprio su questa vicenda che già tanto ha fatto discutere. Concedere la cittadinanza a questo bambino, non concederla. E soprattutto, derivante da questa concessione o meno, anche tutta la polemica sullo Ius Sori, ossia la cittadinanza concessa o meno ai bambini nati in Italia dai genitori stranieri. E ancora andiamo a vedere gli altri fatti. L'analisi del doppio fronte del Carroccio senza veri rivali. Infatti, e sono 6, 6 a 0. La lista delle regioni vinte dal centro-destra si allunca. E verrebbe voglia di dire game over, ma si tratta solo dell'antipasto. Con tutto rispetto per Morise, infatti, Friuli, Trentino, Abruzzo, Sardegna e Basilicata, tutte insieme fanno una volta e mezzo gli abitanti del Piemonte, dove si corre a fine maggio. Poi, appena è il tempo di tirare il fiato, arriverà tra novembre e dicembre, insieme alla Calabria, l'Emilia-Romagna e la Stalingrado del centro-sinistra. E se cade anche questa ultima roccaforte, l'impatto anche simbolico per il PD sarà proprio travolgente. Ed ancora vediamo i focus del mattino. Reddito al sud, le domande sotto le attese. Eccoci qua, infatti, a meno di 20 giorni dall'avvio della presentazione delle domande, sono circa 730 mila le famiglie italiane che hanno chiesto di accedere al nuovo sussidio contro la povertà e la disoccupazione negli uffici dell'Inps stimano che a fine anno gli assegni erogati però non supereranno il milione 100 mila unità. In ogni caso sono circa 200 mila in meno rispetto all'1,3 milioni di nuclei familiari preventivati e pensare che fino a qualche mese fa i grillini promettevano di aiutare non meno di 6 milioni di persone in stato di indigenza. Ed ancora anche su questa pagina andiamo a vedere la cronaca. Sangue infetto, senza colpevoli, Poggiolini assolto 20 anni dopo, migliaia di vittime, ma per il Tribunale di Napoli il fatto non sussiste. L'ira dei familiari abbandonati dallo Stato che non ci ha mai protetto. Infatti i giudici di Napoli hanno assolto perché il fatto non sussiste i nuovi imputati del processo sulle morti di 8 emofiliaci. Tra di loro anche l'ex direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della Sanità Poggiolini. L'inchiesta risale a 23 anni fa, migliaia i contagiati dal sangue infetto, ora la rabbia dei familiari delle vittime abbandonati. Lo Stato assolutamente non ci ha protetti. Questo è veramente una denuncia pesante ma soprattutto una realtà che rappresenta una situazione che non ha assolutamente colpevoli, secondo la giustizia, e noi la definiamo tale italiana, che comunque ha lasciato delle morti impunite. E ancora vediamo il personaggio Duilio, l'ex remida della sanità italiana, con i soldi nel puff, quasi un quarto di secolo, a 90 anni, il potentissimo remida della sanità. Eccoci qua, definitivamente chiude i conti con la giustizia, fece scalpore il ritrovamento di un tesoro nel puff della sua casa. E ancora vediamo le altre notizie di cronaca. Il terrorista era una guerra, chiedo scusa, Battisti alla finta confessione, senza fare i nomi però dei complici. Infatti Cesare Battisti, l'ex terrorista arrestato a gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza, ha ammesso per la prima volta davanti ai PM di Milano di essere responsabile di questi quattro omicidi. Era una guerra, chiedo scusa ai familiari delle vittime, ma non fa i nomi dei complici. Un vero schiaffo a chi lo ha difeso. La confessione inattesa e tardiva di Cesare Battisti non cambia assolutamente nulla dal punto di vista giuridico. E ancora vediamo le altre notizie di cronaca. Legata e bendata la cugina del PM, uccisa dai banditi, Napoli, parente di Fraiasso, mastacrata in casa, sparita la cassetta dei gioielli, lo shock del marito. Hanno infatti picchiato l'anziana, legata, bendata e imbavagliata, con fascette e scotch. Poi hanno messo a suo quadro la casa e portato via i gioielli dalla cassetta di sicurezza. Stefania Fraiasso, 76 anni, cugina del PM Nunzio Fraiasso, è stata trovata morta nella sua casa di Gianturco, periferia industriale di Napoli. E ancora vediamo il ritorno in cella per Corona, il diavolo che non dorme mai. E nella parte bassa della pagina, l'Europa divisa, la legge sul copyright e i colossi del web, oggi si decide il futuro. Infatti, questa mattina a Strasburgo, gli eurodeputati voteranno per la nuova direttiva che mira a garantire l'applicazione dei diritti e degli obblighi del copyright anche alla rete. Una bandiera per chi produce notizie dagli editori e giornalisti o per tutti quelli che non riescono a ottenere una giusta remunerazione, mentre i colossi del web generano enormi guadagni, limitandosi a garantire agli autori dei contenuti e comunque dei ritorni risibili. Insomma, una vera e propria miseria. Ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano, ci spostiamo ora sulla stampa, il quotidiano di Torino, e vediamo che proprio in questo quotidiano l'apertura è tutta dedicata al diritto d'autore. Il giorno della resa dei conti, l'obbio e l'assalto dell'Unione Europea, Lega e 5 Stelle restano per il no. Le realtà minori sarebbero danneggiate. E infatti è questo che racconta appunto oggi nel Parlamento di Strasburgo il voto decisivo. Ed ancora porre fine al far west digitale, che sembra davvero diventato una diatriba sempre più accesa, dove si copia e si rimane impuniti a destra e a manca, ma chissà che cosa succederà appunto con questo copyright. Ancora dopo la Basilicata, il piano di Salvini, patto a destra per scaricare i 5 Stelle. E intanto nel PD la gara è fra chi ha perso di più. E nella parte centrale della pagina, l'offensiva di Israele contro Hamas, dopo i razzi su Tel Aviv. E vediamo, eccola qua, un'immagine di quanto è accaduto e comunque di quanto sta accadendo proprio in queste ore. Un'immagine che racconta una vicenda sempre più brutta, sempre più controversa, una guerra che sembra non avere fine. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano. Ci spostiamo su il manifesto, la tre giorni dell'altra Verona, non una di meno in piazza contro il congresso delle famiglie. E infatti da venerdì a domenica a Verona si radunano a congresso associazioni esponenti politici della destra radicale, cristiana e integralista, chiamati dalla Lega per difendere la famiglia tradizionale. L'unica che riconoscono nel mirino dell'incontro tra oltransisti cattolici, che arriveranno da tutto il mondo, divorzio e aborto, diritti LGBT e matrimoni, omosessuali, studi di genere e immigrazione. Insomma, un convegno che durerà proprio un fino a settimana e che scatenerà ancora una volta tante polemiche. E intanto vediamo nella parte centrale della pagina il solito titolo piuttosto eloquente, vietato ai minori. Ad ora non ci sono gli elementi per dare la cittadinanza a Rami, dopo un duro botte a risposta con il ragazzino eroe del busto di crema, Salvini stizzito prima di si rimangia l'annunciato incontro con il tredicenne e poi gli chiude la porta in faccia. Stiamo facendo verifiche su un parente, dice appunto Salvini. E intanto vediamo le altre notizie in primo piano. L'attacco aereo, missile su Tel Aviv, Israele bombarda la striscia di Gaza. E intanto le autonomie, il PD ha perduto i riferimenti sociali e ci spostiamo ancora su una vicenda che riguarda il Russiagate, Trump è dentro il sistema USA e infine sempre dagli esteri, sulla via della seta, i treni già persi dall'Italia gregaria. Vedremo se questa volta si riuscirà a seguire il treno o a seguire un'altra strada. L'importante è che comunque una via si prenda. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Ci spostiamo sul Sole 24 Ore. Tria incontra i fondi sovrani di Singapore investite in PMI. E intanto vediamo nella parte centrale della pagina un'intervista a Riccardo Carpeno, direttore dell'Agenzia Pronto e il piano del demanio, 1.500 immobili in vendita. E ancora vediamo la svolta di Apple con news, tv e giochi. Insomma, sembra quasi che ormai i telefonini non siano più sufficienti a garantire un guadagno certo e immediato, ma si deve ricorrere a tanto altro quanto rappresenta la televisione via web ma soprattutto i giochi e tutto ciò che allerta le persone e le rende sempre più propense all'acquisto. Insomma, è una guerra infinita nel commercio proprio per accaparrarsi fette di mercato che altrimenti andrebbero alla concorrenza. Una concorrenza sempre più agguerrita che comunque remette in difficoltà tutti. E ancora vediamo le altre pagine dei quotidiani nazionali. Vediamo da Italia Oggi, evasione IVA, soglie elastiche. Per la Cassazione l'imprenditore non è punibile penalmente se sfora di soli 10.000 euro il tetto dei 250.000 euro di mancati versamenti. Il 4% insomma è tollerabile. E ancora vediamo nella parte centrale la leadership italiana sulla via della seta indispettisce Macron. E in media al seguito. E intanto vediamo che giovedì apre il Milano Marketing Festival 2019. Ed infine vediamo stop alle rate dei mutui per gli agricoltori che sono in crisi. Insomma, una buona notizia anche per questo ambito sia quello degli agricoltori sempre più in difficoltà considerato l'andamento così sbilanciato del meteo e soprattutto le vicende che riguardano appunto l'agricoltura sempre più in difficoltà. E ancora vediamo le notizie dello sport Corriere dello sport Chi è già un caso? Moise di nuovo titolare in azzurro Erraiola avverte la Juve Procuratore mette Moise sul mercato deve giocare sempre voglio valutare bene Insigne c'è tempo E intanto vediamo nella parte centrale della pagina CR Crack la Juve in ansia Ronaldo infortunato E infatti si parla di una sospetta lesione muscolare durante Portogallo-Serbia esami a Torino Ma dice lui non ho paura E ancora vediamo nella parte centrale della pagina Prof Ancelotti Lezione di Napoli Visita a Roma Due università Io ne azzurro Più di otto anni E intanto nella parte bassa della pagina Intanto Allegri Scalda di Bala Manzu E ora Coppi E' un paese Nasce infatti Castellania Coppi E Sciomino in Ferrari Mic Prova in Bahrain E infine Ducati Trinning Ancora ci spostiamo su un altro quotidiano sportivo Come ogni mattina vediamo tutto sport E nella parte alta della pagina Allarme Ronaldo CR7 infatti esce al trentesimo di Portogallo-Serbia Per un problema alla coscia destra Anzi a Juve in vista della Champions E intanto nella parte centrale della pagina Il rugito di Agnelli Il presidente bianconero ad Amsterdam Per le CIA e per De Ligt Paratici a Lisbona Per Ruben Dias Mentre sale il pressing su Chiesa E dalla Spagna Rilanciano la pista Pogba E anche per questa mattina Per le notizie che arrivano direttamente Di quotidiani nazionali e tutto Vi lascio a qualche attimo di pubblicità Ma non temete Non andiamo via La rassegna stampa Continua dopo qualche istante di pausa Per darvi il tempo di riflettere Su quello che abbiamo appena visto E per andare ad esaminare Tutti i fatti che ci riguardano più da vicino A fra poco Grazie a tutti Grazie a tutti All'incrocio tra Caserta e il futuro È nato Tecnocampus Un centro direzionale moderno Frutto di un ambizioso progetto Di riqualificazione industriale Che ha messo la qualità del lavoro Al primo posto Tecnocampus Il nuovo centro direzionale di Caserta È collegato direttamente All'A30 Caserta Salerno E dista pochi minuti dal centro di Caserta Tecnocampus SRL Viale Lincoln Zona industriale Ex San Goben Caserta Tecnocampus La soluzione al centro Ben tornati in studio Continuiamo ora a vedere quali sono i fatti in primo piano Però questa volta ci spostiamo sulle testate online Andiamo a vedere quali sono i fatti in primo piano Che riguardano la regione Campania Ma soprattutto Napoli e tutte le province Ma in modo particolare Caserta e la sua di provincia E andiamo a vedere quali sono i fatti in primo piano Vediamo che partiamo da fatti positivi Infatti Jean Fabre mostra a Napoli Il mio dialogo con Caravaggio L'artista belga infatti torna a Napoli con una mostra Il suo progetto napoletano parte dallo studio Trisorio Inaugurazione venerdì in Riviera di Chiaia Per approdare ai musei di Capodimonte E madre e poi il Pio Monte In dialogo con le sette opere di misericordia Che tanto hanno fatto discutere E ancora infatti vediamo che l'artista belga Jean Fabre Torna a Napoli con una mostra che si fa in quattro appunto E proprio per raccontare cosa lo vediamo qua È accaduto infatti in maniera organica Che Melania Rossi e Laura Trisorio E curassero la mostra omaggio a Hieronymus Bosch in Congo Allo studio Trisorio da più di vent'anni Ottimi rapporti spirituali con Laura Trisorio Lei e Melania Rossi sono state le forze guida Che hanno permesso questi importanti progetti a Napoli Oro rosso, sculture d'oro e corallo Disegni di sangue sarà così a Capodimonte Silvan Bellinger mi ha invitato E sono rimasto impressionato dalla collezione del museo Abbiamo fatto una bellissima visita di cinque ore E il direttore mi ha mostrato con moltissima eleganza La collezione di Capodimonte Ho visto molti dipinti in cui comparivano i coralli E questo mi ha ispirato a realizzare dieci nuove sculture in corallo Appositamente per la mostra ora oro rosso Insomma veramente Napoli e le sue mostre Rappresentano la cultura in tutte le sfaccettature e nei modi più belli di visitare Attraverso l'esasperazione dei sensi Quelle che sono le mostre più curate, più attente e soprattutto particolareggiate Proprio per suscitare nell'animo umano quella che è la fantasia E soprattutto l'immagine che evoca ricordi fantastici nella vita di ognuno Insomma la cultura rende tutti un poco migliori E ancora vediamo le altre notizie Ci spostiamo adesso sulla cronaca Morti da emo derivati, assolti Poggiolini e altri otto imputati La sentenza è stata emessa dopo oltre due anni di processo e 60 odienze Ma leggiamolo proprio nei particolari L'ex direttore generale del Ministero della Sanità Di Uili Poggiolini e altri otto imputati Sono stati assolti perché il fatto non sussiste nel processo Sulle morti di pazienti emofiliaci causate da virus Contratti dopo la somministrazione di emo derivati Fatti si riferivano all'ipotesi di omicidio colposo plurimo Riferite alla morte di otto persone L'ultima deceduta nel 2011 La sentenza è stata emessa dal giudice Antonio Palumbo Dopo oltre due anni di processo e 60 odienze Anche il PM Lucio Giuliano nella sua requisitoria Aveva chiesto l'assoluzione Ritenendo che non sia stato possibile accertare Pur in presenza di un nesso di causalità Fra i decessi e la somministrazione del prodotto Quale emo derivato avesse specificamente Provocato il contagio del singolo paziente Oltre a Poggiolini sono stati assolti tra gli altri Anche i manager Enzo Bucci, Giovanni Rinaldi E Roberto Passino che dovevano rispondere all'accusa di omicidio colposo plurimo Con riferimento alla morte di otto persone Appunto l'ultima deceduta nel 2011 Morti che come ho già detto prima Non avranno colpevoli Ma sicuramente lasceranno un segno non indifferente Ma continuiamo a vedere ancora gli altri fatti in primo piano Che arrivano proprio dalla regione Campania E andiamo a vedere quelli che sono le notizie Eccoci qua ci spostiamo nell'Avellinese Andiamo a vedere che cosa è accaduto Ancora un fatto di cronaca Un'esplosione nella notte bomba carta contro l'ingresso di un ristorante E infatti i carabinieri indagano su un attentato Consumato la scorsa notte E danni di un ristorante di Monteforte In provincia di Avellino Una bomba carta di forte potenziale È stata fatta esplodere davanti al cancello d'ingresso Del ristorante Lo Cialone Mandando in pezzi i vetri dell'esercizio commerciale Il forte boato ha allarmato i residenti della zona Che in un primo momento hanno temuto Si trattasse di una scossa di terremoto Il titolare generoso di Falco Che assieme al figlio Carvine Gestisce l'attività da sette anni Ha dichiarato di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive E di escludere che l'attentato Possa essere ricondotto a vendette personali di qualsiasi natura E ovviamente adesso gli inquirenti stanno indagando E ci auguriamo che riescano a determinare Da che cosa deriva questa esplosione E soprattutto chi ha posto il materiale esplosivo Ancora vediamo notizie di cronaca Ci spostiamo sul mattino E vediamo appunto questa vicenda Che già abbiamo anticipato sui quotidiani nazionali Legata e bendata alla cugina del PM Uccisa a Napoli dai rapinatori Hanno messo a suo quadro l'appartamento al terzo piano Hanno preso gioielli e denaro nella cassetta di sicurezza Ma hanno anche picchiato l'anziana E con scocce e fascette L'hanno bendata e imbavagliata E questo è il film dell'aggressione sfociata ieri In omicidio di Stefanina Fraiasso Casalinga napoletana di 76 anni Madre di quattro figli e cugina del magistrato Nunzio Fraiasso Trovata morta sul letto della casa In via Santa Lucia Filippini A Gianturco Periferia industriale della città Dove la donna abitava con il marito Alle 11.25 il coniuge Salvatore Russo Ha aperto la porta con le chiavi senza segni di effrazione E è entrato assieme all'ultimo genito Gennaro Che per primo ha visto in faccia l'orrore Ha urlato e ha abbracciato quel corpo massacrato Ora si dispera Povera mamma mia Che cosa ti hanno fatto Insomma una violenza senza eguali Per una donna Una donna anziana Una 76enne Che adesso lascia ancora Tanti interrogativi dietro di sé E ancora ci spostiamo Cambiamo proprio argomento Parliamo di Universiadi Il commissario Basile Pronto il mega show a San Paolo Vediamo che cosa racconta Da questa pagina del mattino Un evento che è stato prospettato come l'occasione giusta Per risistemare impianti sportivi E colmare almeno in parte il vuoto di altre strutture Il rischio più grosso sarebbe quello di perdere la faccia Il commissario straordinario per le Universiadi 2019 Gianluca Basile in visita alla redazione Racconta le sue corse Per affrontare le criticità di questi giochi universitari Che partiranno adesso tra meno di 100 giorni E infatti appunto dobbiamo avere 54 guardie giurate specializzate Che potranno intervenire nella zona del villaggio A bordo delle navi da crociera Ma alcune delegazioni saranno scortate Fin dalla loro partenza Questo per quanto riguarda la sicurezza Ma vediamo anche l'affluenza che ci si aspetta Ora stiamo facendo la gara per il ticketing Ma pensiamo anche a cedere gratuitamente I tagliandi per molte gare Anche perché sarà un momento particolare dell'anno E noi vogliamo avere una bella cornice di pubblico Per ogni singola gara E la domanda forte Ci sono dei big che hanno dato l'adesione Ci aspettiamo le eccellenze dei collegi americani Del basket e nella pallavolo La FGC ci ha promesso una squadra competitiva nel calcio Abbiamo deciso che la finale femminile di pallacanestro Si svolgerà al palabarbuto E la Federnuoto dovrebbe iscrivere Gregorio Paltrinieri E ovviamente non sarebbe male Ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano Ancora una volta si parla di cronaca Fermo il piano di smaltimento ecoballe Lira di Costa Una vergogna Le coballe sono una vergogna italiana Che non solo non ci possiamo permettere Ma non vogliamo neanche subire Lo dico da cittadino di questa terra Oltre che da ministro A parlare Sergio Costa Che chiede un'accelerata Sullo smaltimento dei 6 milioni di tonnellate Di spazzatura impacchettata Che ancora infestano la campagna E scoppia la polemica Il governo nella scorsa legislatura Ha dato le risorse alla regione Per lavorare le coballe E fare in modo che vengano spostate Noi abbiamo lasciato le risorse Ma ora vogliamo vedere i risultati In calza appunto il ministro Intervenendo a Giuliano Anche a un convegno sulle bonifiche Al quale ha partecipato il presidente dell'ANAC Raffaele Cantone Insomma ancora in alto mare Per quanto riguarda il problema delle ecoballe L'allarme forte lanciato proprio dal ministro Costa Insomma una situazione sempre più tragica Che sembra quasi essere incontrovertibile Ma una situazione che deve essere freinata E soprattutto limitata In modo tale da risolvere questa vicenda Che è sempre più disarticolata Ancora ci spostiamo su Caserta News Andiamo a vedere i fatti in primo piano E anche qui partiamo dalla cronaca Cortellato dopo la lite sulla variante E caccia due persone Il ferito è stato portato in ospedale L'aggressione mentre era in scooter Infatti un ragazzo è finito a pronto soccorso Dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa Con una profonda ferita da taglio Nella tarda mattinata di ieri Le lesioni fortunatamente non hanno leso organi vitali E non c'è pericolo di vita Intanto sul caso stanno indagando gli uomini Nel commissariato di Aversa Diretto da Vincenzo Gallozzi Stando ad una prima ricostruzione Il ragazzo era in scooter Quando è stato avvicinato da due persone Anche loro su un ciclomotore Che lo hanno invitato a fermarsi Mentre percorreva la variante I tre hanno iniziato a litigare con vemenza Quando all'improvviso uno dei litiganti Ha estratto un coltello ed ha colpito Il ragazzo, i due aggressori, sono poi fuggiti Mentre la vittima restava a terra ferito Sono stati alcuni passanti ad allertare i soccorsi E la vittima è stata accompagnata Al pronto soccorso dell'ospedale Però non ha riportato gravi traumi E fortunatamente in questo senso E' andata bene Però è una vicenda che lascia sempre più riferettere Sulla pericolosità di girare per le strade cittadine Quando comunque si trova di fronte Alla difficoltà di incontrare chi viaggia armato Ovviamente non si può sapere Attenzione Prestiamo molta attenzione Alle persone che circolano intorno a noi E ancora bus con studenti Gita fermato dalla postrada Pensate un po' L'autista Aveva bevuto alcolici in autogrill Gli è stata ritirata la patente Scatta anche la multa da 700 euro Insomma una vergogna senza fine L'autista di un bus con 45 studenti La responsabilità di 45 studenti Di un liceo scientifico di Vairano Patenora Si è visto ritirare la patente Dopo essere stato fermato alla guida del mezzo Con un tasso alcolemico maggiore Alla soglia consentita L'autobus viaggiava insieme ad altri due mezzi Che erano giunti in Toscana Per una gita scolastica Quando è scattata la segnalazione Alla polizia stradale Una telefonata ha infatti allertato gli agenti Segnalando che gli autisti Durante una sosta in un'area di servizio Avevano alzato un po' troppo il gomito A quel punto sono state allertate due patuglie Che dopo aver intercettato gli autobus Li hanno fermati per un controllo I conducenti hanno soffiato nelle etilometre Uno di loro è risultato positivo Insomma una vicenda che lascia ancora una volta Tante domande e tanti interrogativi scoperti Proprio perché non ci sono controlli Ma soprattutto non è una questione di controlli È una questione di responsabilità delle persone Soprattutto quando si guida un autobus E si ha davvero la responsabilità di tanti giovani Ma a prescindere dall'età Proprio la responsabilità di altre vite E ancora vediamo una notizia di cronaca È lutto nella diocesi di Sessa Orunca È morto l'ex vescovo Il ricordo commosso del sindaco Accaduto nella giornata di ieri Infatti vediamo un grave lutto Che ha colpito la diocesi di Sessa Orunca Si è spento Monsignore Antonio Napoletano Vescovo emerito della diocesi di Sessa Orunca Di cui è stato pastore dal 1995 al 2013 Uomo e sacerdote mite Buono e profondamente umano Appassionato di questa terra Ha segnato il passaggio del millennio Della chiesa Orunca Lo ha ricordato il sindaco della città Silvio Sasso Una vita di fede e di dedizione a prossimo L'amministrazione comunale Lo ricorda con affetto E gli rende omaggio Dovuto agli uomini illussi E ai sessani Benemeriti Cordoglio e vicinanza alla famiglia Monsignore Napoletano E sui confratelli Dell'ordine redentorista E della diocesi di Sessa Orunca Con questa notizia E con l'augurio che un'anima Possa andare in cielo serenamente Vi lasciamo dopo questa rassegna stampa Ai programmi di Teleprima Vi ringrazio per essere stati con noi Ringrazio anche Tecnocampus Che come sempre Ci offre la possibilità Di darvi l'informazione In tempo reale E soprattutto di discuterne con voi E a voi tutti Do l'appuntamento sempre a domani Buona giornata a tutti Grazie a tutti Questo programma è stato offerto da Tecnocampus Grazie a tutti Grazie a tutti